Il trasferimento del portiere Edoardo Pazzagli alla Pistoia è stato siglato stamattina nella sede del Milan. La trattativa è stata conclusa dal DS arancione Nelzo Ricci, assistito dal vicepresidente Marco Ferrari e dal responsabile dell'area tecnica Federico Pargagna. L'edì prossimo Pazzagli sarà a Pistoia per definire l'aspetto economico. Nel corso della trattativa il Milan ha proposto altri giocatori al team arancione che verranno valutati nei prossimi giorni assieme all'allenatore Cristiano Lucarelli. Domenica in Versiglia sarà fatto il punto della situazione alla presenza di Cristiano Lucarelli che sta ultimando il corso master a Coverciano. Presso la sede della Lega Pro a Firenze, infine, il segretario Neri Cresci ha presentato la documentazione relativa all'escrizione al campionato compresa la fiduzione di 600.000 euro. Martedì sera il presidente della Pistoia Gerazio Ferrari è stato premiato alla festa dello sport a Bientina per la vittoria del campionato che ha portato la squadra arancione alla promozione Lega Pro.